Parte da lontano il nuovo libro dello scrittore Gatano Cellura dalla rivolta dei fasci siciliani del 1893 percorrere lungo un cammino di emancipazione sociale, di rivolte contro la mafia. In un mirabile intreccio storico e lirico l'autore sviluppa temi a lui cari da sempre. Socialismo e sindacalismo come sinonimi di libertà, giustizia, difesa dei deboli e degli oppressi e come percorsi di impegno civile in tempi duri e difficili e con la vita a rischio. È un libro che parla del mondo contadino, di quella che una volta noi chiamavamo la civiltà contadina perché racconta storie di rivolte, storie di emancipazione, storie di ribellione alla mafia nelle terre del latifondo e quindi alle violenze e storie di liberazione in qualche modo. Inizia con la rivolta dei fasci siciliani del 1893 percorre un lungo cammino, di questo cammino sono protagonisti tanti altri capi contadini non solo Bernardino Verro che è il protagonista del primo racconto ma anche Torilio Carnevale e Placido Rizzotto inizia Corleone e finisce alle cate. Ci tenevo tanto perché Corleone è cambiata non deve essere ricordata come la città di Dottor Reina, del Dottore Navarra e di Luciano Ligio ma deve essere ricordata per personaggi che appartengono alla storia di questa città alla storia della Sicilia, alla storia delle rivolte contadine come Bernardino Verro e anche al risveglio sociale e civile che in questo momento questa città vive con molti giovani impegnati a far dimenticare quella che è la storia passata la storia più recente, la storia negativa di questa città. Perché la scelta di questo titolo, Le Stoppie del Feudo? Questo titolo è nato da una considerazione che ho fatto intanto nella copertina c'è un disegno, un bel quadro di Van Gogh perché che cosa c'è di più bello, di più utile, di più fertile di un lavoro andato bene come un raccolto finito e finito bene e di un terreno che è pronto per una nuova costruzione quindi per una nuova vita, per un nuovo investimento da parte dei contadini che non sempre danno buoni risultati sono investimenti spesso a rischio perché legati diciamo così a quello che Carlo Levi diceva il destino dei contadini e quindi al cattivo raccolto, al maltempo a tutte quelle condizioni che possono favorire un buon raccolto come possono anche danneggiare i contadini i loro investimenti nelle annate peggiori Il libro Le Stoppie del Feudo sarà presentato mercoledì 18 marzo prossimo alle 17.15 presso la biblioteca comunale Luigi Vitale di Licata La presentazione del libro si farà come tutte le mie precedenti alla biblioteca comunale di Licata il libro sarà presentato dall'avvocato Patrizia Urso dal professore Paolo Mangoso che porterà tutta la sua competenza in questa serata e i brani del libro saranno i più lirici, i più poetici scelte proprio dall'attrice saranno letti dall'attrice Daniela Molè Grazie! Grazie! Grazie!